Ancora nessuna certezza sulla possibile candidatura a sindaco del comune di Capaccio Pestum da parte del consigliere regionale Franco Alfieri, ex sindaco della città di Agropoli, nonché attuale capo staff della segreteria del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Stesso Alfieri, nel corso di un'assemblea del circolo agropolese del Partito Democratico, convocata un paio di giorni fa, in vista delle primarie, ha espresso le proprie perplessità al riguardo e quindi la propria indecisione su una sua eventuale candidatura. Dunque ancora nulla di certo, almeno fino a quando la campagna elettorale non entrerà nel vivo, probabilmente dopo il 4 marzo, giorno delle primarie del PD. Diversi i soggetti che lo appoggiano e lo invitano a ricoprire questo nuovo ruolo, tra questi gli avversari dell'amministrazione Palumbo e diversi imprenditori sia del settore agricolo che di quello alberghiero. Sebbene da più parti la sua candidatura viene data ormai per certa, il consigliere regionale non fa trapelare nulla. Bisogna dunque attendere ancora pochi giorni per scoprire se questa possibilità si possa trasformare in certezza, dando così fondamento alle voci che stanno circolando da più giorni.